Oh no! Sono naufragato in questa isola deserta! Ciao! Ah, meno male! Allora non sono solo in questa isola! Eh sì, io sono naufragato qui cinque anni fa! Cinque anni fa? Ma non ti sei annoiato tutto questo tempo? Guarda, durante la settimana non mi annoio molto! Il problema è la domenica, è tutto chiuso!